Seconda edizione per il Giro del Faro, la gara podistica provinciale Fidal sulla distanza di 9,5 km competitiva organizzata dalla sezione atletica leggera del CUS Bari con il patrocinio del Comune di Bari, dell'Università degli Studi Aldomoro e del Politecnico. Questa mattina la presentazione a Palazzo di Città, la gara in programma domenica 17 luglio comincerà alle ore 19 con partenza e arrivo sulla pista atletica del CUS Bari.